Buongiorno coccodrilli, oggi mare per trovare parcheggio, non si sa il tempo però l'abbiamo trovato, sono un po' teso per la partita di questa sera non so voi, chiaramente qua con il nonno quindi non vi preoccupate, tornerò in tempo adesso un pochino di mare, ma intanto cominciamo a pensare alla partita e a caricarci perché qua dentro, quello che viene fuori qua dentro è potentissimo la sera c'è la finale, guardate chi se la vede bene su questo fantastico Samsung vinto su V2 con pochissime puntate e ha un prezzo veramente eccezionale che culo diamo un'occhiata alle aste live guardate ragazzi, iPhone 1698, questa è la sezione Apple, pazzesco Airpods c'è anche la sezione Luxury top se vi iscrivete io vi lascio 10 puntate gratis da utilizzare fate swipe e non fatevi perdere questi affari vabbè, un altro livello grandi ragazzi numeri 1 ah ma ci stanno i sassi dentro che sono? ci stanno i sassi dentro le p***ce? che top sta pieno? arzughe? eh? che arzughe? eh? attenzione addirittura corri in culo questi paccheri parlano ma proprio, veramente fa 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 sempre grandi formati eh, guarda che roba eh mamma mia che spettacolo com'è? 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 bene, bene è buono? ho messo la crema da solo eh mh madonna, sembra chissà che avevo messo poi c'è mamma mia perfetta guarda tutto incremato si ah ed ora si torna speriamo bene raga, belli carichi, scoppiettanti come la 500 Abarth fa 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 signor Faustino detto anche scrocchella 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 no 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 dai non c'è molto perché? perché no andiamo a casa andiamo a casa andiamo a casa si oh oh no dai dai la la frisella italiana forza azzurri c'è qualcuno che mangia il piccione? mi piace il piccione? ti piace il piccione? non succede ma se succede ragazzi non troppo casino nel senso di fare i teppisti lo dico io usiamo sempre la zucca perché tanto cioè domani è lunedì comunque eccoci qua dal carletto stereo è tutto pronto maia di rito nonno Faustino già schierato scarpine messe e la coppa ragazzi la coppa se la vogliamo crediamoci e tifiamo la nostra nazionale fino alla fine fino a che abbiamo fiato fino a che possiamo forza Italia forza Italia più forte forza Italia più forte stringiamoci a corte siamo pronti alla morte siamo pronti alla morte l'Italia chiamò stringiamoci a corte siamo pronti alla morte siamo pronti alla morte l'Italia chiamò sì forza che eravamo in minoranza forza forza ragazzi forza forza ragazzi forza ragazzi anche da casa è importante che hanno loro? che hanno lì ne ho sfiatato perché? e mi senti che è in line questo è il nino nazionale la senti che è in line con le altre tre era dura si sapeva ma non molliamo nulla perché siamo italiani eh o no? eh? oh sì sì e basta a fare la parte e me lo dico io io ci credo ragazzi GOOOOOOOL 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 chi ha segnato? GOOOOOOOL 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 sono da casa forza ehi adesso cominciamo da capo mamma mia raga che sofferenza forza ora è più importante che mai anche noi da casa dai ehi oh no oh no oh no dai dai essi concentrato eh eh sono concentrato eee seee 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 che sofferenza che sofferenza che sofferenza campioni d'europa seee seee godo e che spettacolo vincere con la persona che amate abbracciatevi tutti abbracciatevi tutti abbracciatevi tutti fermate fermate abbracciati u*****o sempre sobri, eh? va a festeggiare va a festeggiare ecco il caputato bello così, gli fa piedino? ti stai a fare piedino fai gli piedino stai piedino guarda come fa il piedino mettilo sto coso ma il verso non mi mette il verso e il verso com'è? è cucito ma nel toccà ma vaffanculo sciacqua di co***** mi è stato più grande nel toccà? non ha già credo è sciacqua di co***** mettilo scusa eh o no? vattene un capitannuncino un po' rapido mamma mia comunque buonanotte a tutti belli belli azzurri stanotte pelò perché sta pieno sta pieno no?